Buonasera cari amici, bentrovati, nuovo appuntamento con Confagricoltura News, vado subito a presentare l'ospite di questa puntata, abbiamo ancora con noi Nicola Artoni dell'ufficio stampa di Confagricoltura. Ciao Nicola. Ciao Andrea, grazie. Allora Nicola, reduce da pochi giorni, diciamo sei tornato da pochi giorni da questa tappa europea con Confagricoltura a Bruxelles con, diciamo, tornate come Confagricoltura con dei risultati importanti. Torniamo esatto, torniamo diciamo vincitori, si può sempre fare meglio però insomma sono stati fatti dei primi passi importanti. In primis ci tenevo a ringraziare l'ufficio che Confagricoltura nazionale ha a Bruxelles proprio di fronte alla Commissione Europea e in particolare Cristina Tinelli che è la nostra rappresentante europea per quanto riguarda Confagricoltura che ci ha ospitato questi due giorni, ci ha organizzato una serie di appuntamenti molto molto importanti che sono andati poi a finalizzare risultati come dicevi prima di assolutamente di primo livello. Cos'è successo? L'Europa negli ultimi giorni ha votato alcune risoluzioni molto importanti per quanto riguarda il settore agricolo, noi abbiamo avuto anche il piacere, l'opportunità di avere, di partecipare a una seduta della Commissione Agricoltura, in primis quello per quanto riguarda la riduzione dei fitofarmaci. L'Europa chiedeva che gli Stati membri riducessero di un ulteriore 50% l'utilizzo dei fitofarmaci in agricoltura. Questa proposta è stata respinta grazie all'azione di lobby che è stata fatta anche da Confagricoltura, anche perché bisogna ricordarlo che l'Italia è uno dei paesi più virtuosi da questo punto di vista perché negli ultimi anni ha ridotto già di oltre il 30% l'utilizzo dei fitofarmaci. Quindi questa ulteriore stangata sinceramente ci sarebbe sembrata una mazzata immeritata per quanto riguarda il settore, quindi siamo soddisfatti che sia stata respinta. In secondo luogo si è parlato di direttive emissioni, che è la direttiva che in questo momento vorrebbe equiparare gli allevamenti zootecnici, quindi bovini, suini e avicoli, alle attività industriali, quindi dando agli allevamenti stessi delle limitazioni che hanno le attività industriali. Si tratta ovviamente di per noi un'assurdità, sono due ambiti totalmente diversi. Si è riusciti a ottenere un risultato positivo per quanto riguarda i bovini, invece per quanto riguarda i suini e gli avicoli siamo consapevoli che ci sia ancora da lavorare, stiamo lavorando sia a livello nazionale che a livello europeo, stiamo lavorando per far sì che nessuna di queste tre categorie possa essere equiparata alle attività industriali. Infine un'altra tappa è quella sul ripristino della natura, sostanzialmente l'Europa chiedeva ai nostri imprenditori di destinare ulteriore terreno di quelli coltivati a fasce naturali, diciamo così, quindi sostanzialmente incolte. Anche in questo caso si è riusciti a mettere per adesso una pezza, quindi siamo soddisfatti. Tutto questo naturalmente ricordo che c'è ancora molto da fare, ma stiamo lavorando in questo senso. Assolutamente, però dobbiamo dire che è stata almeno una trasferta che ha dato i suoi frutti da questo punto di vista. Grazie a Nicola Artoni per essere stato con noi, lo ritroveremo anche la prossima settimana. Grazie anche a voi che ci avete seguito, a presto. Grazie a tutti.